L'Europa è una grande opportunità, è la casa di tutti i cittadini, dobbiamo essere consapevoli che è la nostra nuova patria, è una grandissima opportunità di mobilitazione, di libertà di movimento e l'Europa è libertaico. La frase che si utilizza meglio il sentimento europeo è che l'Europa ci dona libertà e dobbiamo essere capaci di utilizzarla bene. L'impegno è quello della commissione che ho scelto, ovvero la tutela dell'ambiente, la tutela della salute, la capacità di far fronte alle occasioni per utilizzare bene i fondi europei che al sud purtroppo vengono utilizzati male alle regioni, quindi la capacità di informazione e la capacità di formazione dei pubblici amministratori.